L'Olbi è penultima in classifica, un pessimo score dunque, in settimana ha cambiato allenatore. Tutti i fattori che non rendono tranquillo Paolo Indiani che nell'ultima ora ha alzato la voce a Monento e sui ragazzi che non si tratta di una partita facile. La presenza di Ragazzo nella squadra gallurese è sempre un fattore di rischio per tutti. Sì, ma anche se rimaneva l'allenatore precedente poteva anche cambiare. Non era detto e gioasse sempre la stessa maniera anche l'allenatore precedente. Sì, però è chiaro che quando c'è un allenatore nuovo da questo punto di vista per forza credo ci siano delle novità. Credo non ci sarebbe stato un momento peggiore per andare a Olbia. Una squadra con tante sconfitte consecutive, il trauma di cambio allenatore va in casa sua. Qua dovremmo aspettarci una gara difficile e difficile. Per l'undici che inizialmente verrà schierato, scontato il ritorno di Chiosa in difesa. Gucci d'attacco e Settembrì da centrocampo. Buone possibilità catanese, mentre Dabiani e Foglia si contenderanno una maglia a centrocampo a fianco di Mavuli. Grazie. 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 Grazie.